Buonasera, 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 grazie, ciao, Claudia ma sei la bellissima, sempre più bella, smettetela che vado via, ho esagerato, non hai esagerato, però è vero che detesti l'intervista, tu continui a volere che io sia sincera, vero? Sempre, assolutamente, stai benissimo, devo dire, molto chic, molto bella, che periodo è per te questo? Autunnale, molto bello, sono molto impegnata su vari fronti e in realtà la cosa mi crea una qualche ansia perché io non amo accavallare le cose, invece sono su tre set contemporaneamente, nel frattempo sto facendo la promozione di questa serie che adoro, grazie per Franco Battista. Che io adoro anch'io, la tua preferita questa o quale? Allora questa è la canzone con cui si apre la serie, che è The Bad Guy, che inizia con un groove bellissimo, ma in realtà io in questo periodo sto approfondendo, non so se conoscete Flares, che è un album di battiato incredibile e c'è la canzone dei Vecchi Amanti dove lui ricanta tutti i brani più famosi della storia, c'è anche Plaisir d'Amour che io adoro Fazzesco, questa è la scrissia d'Uilio del Prete Cioè, vabbè, insomma Fazzesco, la francese, vabbè, cominciamo così ma con io Però va bene, dai, allora, vogliamo cominciare dalla serie oppure ci teniamo? Cominciamo dalla serie, vai Sei padrona di casa, fai quello che vuoi Andiamo sul didascalico, è qui per promuovere una serie, clip Ahimè Ecco, io non so se mio padre fosse un uomo buono e se io stessa possa considerarmi tale Ma so per certo che quel giorno a Marzamemi una parte di me è morta con lui Grazie di cuore a tutti coloro che hanno lavorato al magistrato Buone Questa bellissima fiction che tiene viva la memoria di Paolo Crei Grazie a tutto il cast Grazie a tutti i miei ragazzi Grazie a chi lotta per lo Stato E grazie a mio padre Sempre E un grazie speciale a mio marito E' incredibile che per una volta non sia tu il protagonista, eh? Comunque sei stata brava Lo so Serie che va sulle piattaforme Crime e dark comedy Così la descrivono Storia di Inno Scodellaro, pubblico ministero siciliano Incredibilmente accusato di rapporti con la mafia Che però metterà in atto un incredibile piano di vendetta E tu sei l'avvocata Luvi Io sono sua moglie Sono un avvocato incredibile Molto competente Hai visto anche molto sicura di sé Ehm Moglie del magistrato Professionista brava Figlio del magistrato Anche un po' che annoia, no? E invece non è così Perché Luvi dimostrerà durante la serie Di avere un Un grande Temperamento Di sovvertire le regole Di non fare le cose che ci si aspettano di fare Insomma questo personaggio ha proprio un sacco di sfaccettature E in una serie di questo tipo Che è infatti a metà tra Il crime, hai detto bene E la commedia E' stato coniato questo termine che è Crime di Perdonami Se lo faccio Crime li Questo è come Quando erano Moretti, no? Le parole sono importanti Sono importanti I miei tempi ci sono cambiati Nanni I tempi ci sono cambiati Sì, va bene Crime li c'hai il Cra Pazzo di tutto potremmo pure dirlo all'italiana Io non ho Nessuna idiosincrasia verso le parole inglese Per farci capire, no? Il crime vuol dire un poliziesco Si diceva una volta, giusto? Sì, sì, qualcosa di avventuroso Dark comedy, commedia nera Sì E quindi è un misto fra un poliziesco e una commedia nera Una commedia che a volte diventa anche un po' scorretta Un po' Sì, va fuori dagli stereotipi Questi miti, no? Perché l'argomento mafia È stato trattato nel nostro paese In maniera molto approfondita Giustamente Giustamente Purtroppo abbiamo a che fare con storie molto dolorose e drammatiche E più ne parliamo meglio è Assolutamente Perché se ne parla troppo poco E se non se ne parla sembra che non esista più Invece non è così Ti porterò in promozione con me Va bene Io vengo tranquillamente No, ma è giusto Ciao Cori Vado in giro con Paola Senti, poi mi devi dire come è andata con lui Giro Cascio Però voglio vedere te A proposito di stereotipi sovvertiti Con Paola Cortellesi Catwoman Che moglie di Batman Adoro Vai Sei un po' Tim Burton oggi Per cui va bene Oddio che ti rai I am a Tyler I am a Tyler I am a Tyler E' un po' prima Mi ringrazio Sono fortunata C'è un po' di fiatone Mi permisi di aggiungere questa cosa Mi sono fatta un chilometro di studio Un ginocchio Feci i capriole Batelle La tua parte seduttiva è superiore Alla tua parte ironica O viceversa La mia parte è sedù Seduttiva Non so neanche come si dice Non ci credo minimamente No, allora Credimi tu Mi devi credere Tu però mi devi credere E se no che venga a fare Giusto Dunque la malizia È una cosa che Una virtù volendo Che però Bisogna sentirci portati Per certe cose E invece La seduzione Tutto questo E' qualcosa che non mi è mai appartenuto E un po' mi ha anche salvato Perché bisogna saperla gestire Il fatto che io non fossi seduttiva Poi questo non vuol dire Che io non sia seducente Brava Però non è una cosa che Che propongo Certo Perché si può Anzi La seduzione Della non seduttiva È più efficace Che non della panterona Sì è un po' un doppio carpiato Però va bene Però da bambina Ti piaceva Da ragazzina Ad adolescente Ti piaceva un ragazzino Come glielo facevi capire Ma non glielo facevo capire Io ho scritto per tre anni Stefano su un foglietto Chi era Stefano? Non lo so Non lo so Non l'ho mai conosciuto Era uno che passava lì Con la sua moto bellissima Ero molto piccola Sì certo Però Stefano 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 Oh Stefano Non l'ho mai conosciuto Eh vabbè Stefano Ovunque tu sia Non sai che ti sei perso No ma lui non so niente C'è uno Stefano Grande 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 Dallo studio Avevo 14 anni Avevo 14 anni Però ecco Veramente un po' inconsapevole Ero cagliarda Non è che fossi Punto Però diciamo Che avevo un temperamento Che mi portava altrove Non a cercare il flirt Giusto Senti Com'è andata Luigi Locascio sul set? E chi l'ha visto? Come chi l'ha visto? Devi guardare la serie Per capirlo No allora Io l'ho visto Naturalmente Tra l'altro Faccio un personaggio Questa donna È molto innamorata Di suo marito Ed è una cosa molto bella Tra loro c'è una grande Complicità E lui è un essere umano Splendido È un attore Che desideravo Tanto conoscere L'avevo un po' conosciuto Nei provini Che noi nei provini Un po' ci Annusiamo Brava Però poi sul set Le persone le conosci E lui è splendido Un grande attore Ha fatto una prova Incredibile Ti mando un messaggio Bravissimo Adorabile Peraltro Via messaggio Adoro Ciao Claudia Come stai? Siamo stati Benissimi insieme Durante le riprese Della serie E a un certo punto Dovevamo Registrare Delle risposte Per i social Ci hanno detto Dite una cattiveria A vicenda Claudia a Luigi Luigi a Claudia Io proprio Non sapevo cosa dire E ho detto No ma è inutile dire Cattiveria a Claudia Claudia è Inscalfibile Invulnerabile E tu mi hai detto No no dimmi una cattiveria Dimmi una cattiveria Allora la prima Che mi è venuta in mente Ho detto Claudia è troppo vera Ecco Forse Certe volte è un difetto Ma sappi Che per questo fatto Per questo tuo essere Così vera Così Autentica Sempre presente Ti si vuole bene E si aspira A diventare I tuoi amici A presto Ma che carino Sì sono sfacciata Lo so Però Vedi che Ma che bello Vuol dire Che vuol dire L'autenticità Paga sempre E lui invece Caratterialmente Che non ci crede Non sei d'accordo Non lo so Devo ancora capirla Questa cosa Sicuramente Conviene A se stessi E agli altri Mostrarsi Il più possibile Onesti Però bisogna Sapersi Comportare Bisogna un po' Saper edulcorare Le parole Che si dicono Perché poi Si rischia di fare Ferite profonde Nelle persone Non conviene Neanche questo Ma certo Diciamo Quello è sicuro Nei battenti È capitato Poi di dover E quando se ti capita Cosa stagli di scusa In un periodo Della mia vita Guarda Che quando sento cose Che ti risuonano Che sono così vicine A me adesso Va bene Scatta l'applauso Hai bisogno Di essere vera? No no Ci sono cose Che quando le dici La tua verità Ti si è ritorta contro Non so niente Devo sapere cose Poi io sono troppo schietta Ma devi parlare Esatto Ma qui è una vera Ci prendiamo 5 minuti Qua è proprio terapia di gruppo Ma ti è capitato Di dover chiedere scusa Per delle parole Che avevi detto Certo Quindi poi te ne accorgi E che fai Cioè tu hai una parola di troppo Sì sì ci ripenso Ci ripenso Dico no Forse sono stata troppo dura Ho detto qualcosa Che ti ha ferito Volevo scherzare Ci tengo a sapere No no tranquilla No veramente Per favore dimmelo Perché sto attenta Alla prossima volta Devi stare tranquilla E per la terza volta Chiedo Sei sicuro? Quando sono stata rassicurata? E allora vado giù dura Oh papà E' correggibile Qui balli con Claudio Santamaria E poi mi racconti E' anche molto bene Ballo con Claudio Santamaria Di papà e di Alain Delon Vai Oddio Io non c'è dove l'acqua Si è spento il sole Nel mio cuore per te Non ci sarà più Un'altra estate d'amore I giorni sono fredde e notti per me Senza più luce né calore Dunque si narra che quando avevi 19 anni E giravi niente po' di meno Con Alain Delon nel film L'orso di Peluche in Francia C'era tuo padre con te Si, sebbene io fossi maggiorenne Mi accompagnava papà Ma mi accompagnava All'inizio della mia carriera Mi accompagnava papà Carino però Carino o invadente? Splendido Loro sono sempre Sia papà e mamma Sono sempre stati molto presenti Ma mai ingombranti Questa è una cosa che io proprio Gli riconosco Che cerco di applicare con i miei figli Questo Proteggerli un po' Un passo indietro E lui era lì con me Si Una bella catena Da genitore ai figli Si, si, si E che succede? Che scoppia a piovere Giusto? Tu facevi L'infermino Cioè era forse La pioggia era del set La pioggia era finta E io ero vestita con un camicino bianco Perché era un'infermiera Che diciamo Accendeva una certa malizia Appunto Che negli occhi di chi guarda Chi mi guardava Alain Delon Era un professore E gestivo una clinica Quindi niente di scabroso Tra l'altro infatti È un film francese Io non parlo francese L'unica battuta che Che dissi fu Professore Professore Una cosa del genere Bene Esco da questa clinica L'ultima volta che il professore Se ne va E quindi lo chiamo Mi bagno E il camicino Rivela qualche Qualche forma E mio papà Ascoltò il commento Di uno che stava lì Sotto la pioggia Pure lui Poveraccio Attaccato a uno stativo E disse Ammazza che bona Disse Faccio un complimento Un po' forte Adesso sarebbe catcalling Allora era solo Un romanaccio Tra l'altro In una landa desurata Non c'era nessuno Tra i boschi E mio padre lo sentì E quindi ebbe un moto D'orgoglio E disse A questa persona Dice Attanto che è mia figlia E vabbè Che l'hai detto Ma sarà Ci sono intronte le riprese? No Ma all'endelao com'è? Beh Com'è Sono passati 30 anni Adesso non lo so Era splendido Era molto paterno Aveva appena avuto Una bimba Annusca Annurca No quella è la mela Anna qualcosa Va bene E mi faceva sempre vedere Sta bambinetta Era molto carino Molto gentile Signore Senti Un ruolo che vorresti interpretare Insomma posso scegliere Un personaggio Ah non so rispondere a questa domanda Un regista con il quale vorresti Neanche questa Vorresti lavorare Ma anche del passato Eh Ah del passato Andiamo dai morti Kubrick Kubrick Non scomodiamo nessuno Tim Burton Ma io ti ho detto Quando stai entrata Ho detto sei un po' a Tim Burton Eh ma Tim Burton A casa mia Proprio c'è un po' stava Ma si vede proprio Si Sai Tim Burton Ti posso dire una cosina Che L'insegnante di mio figlio Quello piccolo E sono andata a parlarci E mi ha detto Guardi la prima parola Che ha scritto suo figlio Ha come assassino E come mai? Perché guardiamo queste cose Guardiamo dei film Diciamo un po' carichi Anche di tensione Tutto opportuno a lui Ma perché lo fa? Perché glieli fai vedere? No 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 È una scelta personale Sua di lui? Sì Ha cominciato con i film di Miyazaki Poi Tim Burton Racconta cose A volte macabre Ma che non hanno poi Uno strascico doloroso È tutto molto grottesco Se ci pensi Anche per noi Le fiabbe Le fiabbe sono delle storie Pensate Non so La bella addormentata nel bosco Ma ci sono delle storie Dei fratelli di Renata Esatto Sono terribili Ma di una crudeltà Che io a volte Apro e chiudo E sfoglio Dico no questa no Questa è una Questa è una Cara Claudia Siamo sopravvissute A tanti racconti Sì Infatti Infatti The Black La serie si chiama? Si chiama The Bad Guy The Bad Guy Va in onda su una piattaforma streaming Ed è veramente Incredibilmente Sovversiva Lo stavo per dire Come Claudia Van Dolfi Ma magari Non è così Quindi siccome Devo chiedere Esatto Non lo sei E per me Un complimento Ti ringrazio E per me